carenza di medici il pd manifesta davanti al pronto soccorso rapine zona stazione banda denunciata ma irreperibile fano esulta ufficiale finanziamento alla ciclovia del metauro i 90 anni di oscar piattella con un regalo alla città di pesaro sport salvezza matematica per la megabox vallefoglia che resta in serie a buona serata e ben ritrovati al nostro telegiornale di rossini tv do al benvenuto a tutti i nostri fedeli telespettatori che ogni sera alle 19 40 oppure alle 20 40 si collegano sul canale 80 per vedere rossini tv in merito proprio a questo se avete ancora difficoltà a vedere il nostro segnale sul canale 80 mi raccomando risintonizzate i vostri televisori oppure chiamate un antennista che sicuramente provvederà a farvi vedere al meglio la nostra emittente che come ben vedete è in hd apriamo questo telegiornale occupandoci di politica sanitaria dove continua a perdere i pezzi il personale del pronto soccorso di pesaro dopo i saluti dell'ex primario infatti marche nord tenta di trattenere altri 5 medici dimissionari una gestione della sanità inadeguata secondo il partito democratico di pesaro che oggi ha manifestato davanti al pronto soccorso non c'è stata invece la preannunciata contro manifestazione del movimento io apro pronto soccorso di pesaro ospedale san salvatore 31 marzo ultimo giorno di lavoro dell'ex primario del pronto soccorso umberto nudi ultimo giorno di lavoro dall'azienda ospedaliera marche nord nudi ha aperto una falla che non si sta rimarginando ci sono state altre cinque dimissioni di medici nei giorni scorsi ieri c'è stata anche una riunione straordinaria con l'assessore regionale filippo salta martini assessore regionale alla sanità per cercare di arginare questa falla che non fa altro che aggravare il problema di personale a marche nord riunere tra l'altro alla presenza dei vertici dell'azienda compreso il direttore generale maria capalbo oggi è la manifestazione del pd per sottolineare tutte queste inadempienze a cominciare dal ringraziamento agnudi dall'imbocca al lupo al nuovo direttore giancarlo titolo ma poi tante situazioni che vanno enfatizzate secondo il pd dal deficit di personale a quello delle guardie mediche a quello del centro per l'autismo che continua a tardare a quello dell'ospedale sulla scelta dell'ospedale con la bocciatura di del vecchio progetto dell'ospedale di secondo livello fino all'incompiuta del san benedetto pd che ha manifestato non si è visto invece il movimento io apro al rinascimento di umberto carriera che aveva intimato una contro manifestazione in questa giornata c'è stato il pd non c'è stato io apro nonostante il dispiegamento di forze per quella che ci risulta tra l'altro essere una manifestazione per cui non era stata richiesta autorizzazione c'è stato il pd c'è stata la manifestazione e questi sono gli argomenti trattati l'occasione che gli udi termine il suo servizio perché si dimette è un modo per dirgli grazie ovviamente sappiamo che la vita continua il san salvatore continua i problemi restano per cui siamo vicini a chi sostanzialmente prende la direzione del pronto soccorso dottor titolo e tutto lo staff medico paramedico sanitario infermeristico che vive continua a vivere ancora uno stato di emergenza perché c'è una carenza cronica di personale e la regione non sta in qualche modo affrontando in maniera adeguata questa emergenza l'occasione della del 31 marzo è stata anche l'occasione per ribadire tutti gli elementi di criticità e di smontaggio che la giunta regionale sta facendo sulla sanità nel corso di due anni e il numero del personale medico all'interno del pronto soccorso dottor titolo si è praticamente più che dimezzato perché se i primi mesi del 2020 c'erano circa un poco meno di 40 medici oggi si ritroviamo appena dopo due anni che i medici sono oltre oltre la metà questa è una situazione insostenibile anche perché probabilmente se non si riesce a trovare una soluzione la regione sarà costretta ad assumere persone o meglio a prendere personale all'esterno quindi o dalle cooperative o attraverso realtà private era stato promesso che sarebbero arrivati circa 13 medici di cui 8 legati all'emergenza urgenza e 5 medici che avevano come dire un profilo tipo chirurghi o cardiologi cioè sono quei medici che possono comunque lavorare all'interno del pronto soccorso a tre mesi da questo annuncio fatto in consiglio regionale non è arrivato nessuno anzi sono aumentate le persone i medici che vanno via ed ora passiamo alla cronaca perché la polizia ha individuato e denunciato i responsabili delle recenti rapine al sottopassaggio dei cappuccini si tratta dello stesso gruppetto di ragazzi nord africani per lo più minorenni già sospettati di altri reati denunciati ma attualmente irreperibili una sparizione che non cancella i problemi di micro criminalità del cosiddetto triangolo dello spaccio compreso tra stazione parco miralfiore e monumento alla resistenza dove proprio questa sera il coordinatore territoriale di fratelli d'italia ha manifestato per chiedere al comune azioni più incisive alle problematiche della sicurezza e continuiamo a parlare di cronaca perché un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita dai vigili vigili del fuoco nella sua casa di fiordipiano siamo nella frazione di colli al metauro dove viveva solo il decesso risalirebbe però a diverse settimane prima l'irruzione dei vigili del fuoco è nata in seguito ad una denuncia ai carabinieri di colli al metauro da parte di alcuni vicini di casa che hanno raccontato di non vedere il 64enne dallo scorso dicembre le prime indagini lasciano propendere per un decesso avvenuto per cause naturali ci siamo occupati ieri della novità per quel che riguarda l'arretramento della ferrovia che il ministero delle infrastrutture ha approvato per pesaro escludendo fano e marotta dall'operazione fano che però oggi ritrova il sorriso con la firma del protocollo in regione che ufficializza il finanziamento alla ciclovia del metauro più bella più estesa più attrattiva sono queste le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture baldelli per definire la nuova ciclovia del metauro approvata questa mattina in regione un tracciato di 74 chilometri che attraversa 10 comuni e che si collegherà con la ben più estesa ciclovia adriatica il finanziamento stanziato oggi pare alla cifra di 6,5 milioni di euro coprirà la realizzazione del percorso per 35 chilometri ovvero il tragitto che va da fano a fossombrone passando per cartoceto colli al metauro e monte felcino un nuovo modello nella concezione delle ciclovie della regione una ciclovia del direvertimento una ciclovia turistica ma anche una ciclovia urbana con forti elementi identitari per la città di fano che uniranno il mare al centro storico il centro storico al grande parco urbano su cui sta lavorando la città di fano ma anche il quartiere più popoloso della città ossia il quartiere di sant'orso saremo in grado quindi di soddisfare diverse esigenze ponendo al centro delle interconnessioni ciclabili proprio questa ciclovia perché perché il protocollo firmato oggi con l'amministrazione comunale di fano si inserisce anche nello sviluppo della ciclovia adriatica infatti con il sindaco seri abbiamo parlato anche della realizzazione del nuovo ponte ciclabile sul fiume metauro e quindi è veramente un passo in avanti la sottoscrizione di questo protocollo perché si passa dalle parole e i fatti quelle parole che non avevano in passato disegnato nemmeno un metro della ciclovia del metauro un finanziamento da parte della regione marche che prevede che 3,9 milioni di euro dei 6,5 complessivi vengano destinati al comune di fano un'infrastruttura importante per la nostra città ma mi viene da dire per il territorio perché collega una serie di piste ciclabili collega dei quartieri della nostra città ma soprattutto valorizza anche tutta una serie di infrastrutture e di spazi anche belli ambientalmente parlando come il nuovo parco dell'aeroporto nella nostra città un circuito importante per chi vive il territorio per chi vive la città ma importante anche in termini di accoglienza per non dimentichiamo che siamo città turistiche e quindi anche per coloro che sceglieranno di venire a fare le vacanze nel nostro territorio troveranno una rete di ciclabili interessanti belle da vivere e che ci fanno assaporare anche l'ambiente che ci circonda Ed ora cambiamo argomento parliamo di turismo e di urbino che si prepara ad un 2022 di rilancio territoriale con strategie di valorizzazione condivise da comune regione e conf commercio strategie che sono state presentate ieri al teatro Sanzio Il teatro Sanzio di Urbino ha ospitato la seconda conferenza sul turismo organizzata da conf commercio dopo la prima tappa tenutasi a Gabicce Mare L'associazione di categoria ha convogliato sul palco le riflessioni di comune e regione per un patto di insieme volto a rilanciare la vocazione turistica di Urbino dopo il biegno di pandemia Il 2021 ha recuperato parte delle gravissime perdite in termini di presenza e arrivi del 2020 ma ancora non abbiamo raggiunto i dati del 2019 quindi ancora c'è molto da fare Chiuso il 2021 il 2022 si apre all'insegna di grandi aspettative Questo è l'anno di Urbino, il 2024 sarà l'anno di Pesaro, città capitale italiana della cultura Questo è l'anno di Urbino perché 7 giugno, 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro e noi come conf commercio con conf turismo Terre di Urbino del Montefeltro che è la nostra nuova associazione dedicata alla promozione turistica del Montefeltro abbiamo già in animo tante iniziative, il nostro programma è già compiuto L'altro motivo per cui siamo a Urbino è la scelta che è felice che ha fatto il Comune con l'assessore Cioppi, l'assessore turismo, di coinvolgere le unioni montane dell'entroterra per tentare per la prima volta di realizzare un'attività congiunta, una rete creare una rete tra le istituzioni del territorio per fare una promozione strategica del turismo In questo caso noi ci proponiamo come conf commercio e conf turismo Terre di Urbino del Montefeltro come DMO, cioè come soggetto attuatore delle politiche strategiche definite dalla compagine istituzionale Ottimismo sulle strategie comuni che la regione sta portando avanti le migliori infrastrutturali ricordate dall'assessore Baldelli quelle promozionali sottolineate dal governatore Acquaroli L'agenzia che avevamo annunciato l'anno scorso sta diventando realtà ormai è una questione di qualche giorno uscirà anche il bando per cercare il direttore già è stata costituita e siamo proprio in direttura d'arrivo Credo che l'agenzia possa rappresentare uno strumento di crescita come uno strumento di crescita la campagna promozionale che stiamo mettendo in campo per raggiungere quei mercati che secondo noi possono portare in questo momento storico un maggiore afflusso di turisti parliamo dei mercati del centro e nord Europa c'è una strategia precisa che vogliamo perseguire e credo che sia anche la strada buona su cui insistere in questi anni Anni che ereditano diversi punti interrogativi all'orizzonte Sinceramente le incognite sono tante in questo momento incognite date da una fase di due anni di pandemia che diciamo così ci ha lungamente provati ma da una fase ai noi molto inedita che è questa situazione di guerra che probabilmente può mettere in discussione alcune iniziative che erano consuetudine ad esempio il turismo proveniente dall'est Europa per noi era una consuetudine ed era anche una fetta importante e questa cosa sicuramente verrà toccata io voglio pensare che ci possono essere comunque i presupposti per dare una buona offerta turistica Altre incognite sono quelle indicate dal sindaco Gambini Adesso tutti parlano di questi fondi del PNRR io sono veramente molto preoccupato che non riusciamo a metterli a terra questo è uno degli argomenti che secondo me bisognerà approfondire abbiamo soppresso il ministero dell'agricoltura e istituito un altro ministero della transizione ecologica probabilmente se lavorava prima su questo tema la transizione ecologica era automatica invece abbiamo distrutto un settore che oggi ci è arrivato come uno schiaffo in faccia di tutti gli errori fatti in passato Il servizio che avete appena visto è un'anticipazione dello speciale che poi trasmetteremo su Rossini TV domani alle 21.20 Restiamo però in tema di Confcommercio per parlare di nuove opportunità per l'imprenditoria femminile sono quelle che l'associazione Terziario Donna vuole portare alla conoscenza delle giovani imprenditrici del territorio in una tavola rotonda che si terrà questo lunedì Noi come Terziario Donna teniamo molto alla crescita delle imprese del nostro territorio e in particolare delle donne imprenditrici per cui abbiamo pensato di organizzare questa tavola rotonda dove si mettono a confronto imprenditrici giovani e imprenditrici già affermate per una crescita reciproca e poi alla fine di questo incontro ci sarà una breve lezione tenuta da due docenti ormai di fama Gabriella Acerbi e Maurizio Terenzi i quali saranno i moderatori poi di tutto l'evento per cui invitiamo tutte le giovani donne tra 20 e 40 anni a partecipare a questa tavola rotonda perché poi le imprenditrici già affermate diciamo che fanno parte del nostro consiglio quindi ci saranno sicuramente presenti e pensiamo che le giovani donne che parteciperanno a questo confronto diciamo che porteranno a casa o meglio ancora nelle loro aziende sicuramente un bel bagaglio di informazioni e noi ci prendiamo, diciamo le imprenditrici più affermate ci prendiamo una carica di novità e di gioventù che ci farà sicuramente bene per crescere anche a noi Cambiamo argomento, parliamo di arte compie oggi 90 anni Oscar Piatella uno degli artisti pesaresi più affermati sulla scena internazionale un compleanno che Piatella ha celebrato donando una sua imponente opera pittorica a Pesaro capitale della cultura opera che è stata installata oggi nella sala del consiglio comunale Oggi, giovedì 31 marzo Oscar Piatella compie 90 anni due terzi dei quali trascorsi come uno dei più affermati artisti pesaresi sulla scena internazionale 90 anni celebrati controcorrente perché se al compleanno il festeggiato a ricevere regali nel caso di Piatella è stato l'artista a donare una delle sue opere a Pesaro città dove è nato prima di trasferirsi a vivere e sviluppare la sua creatività nella vicina Cantiano Piatella dona alla città il Politico per Pesaro un personale omaggio alla Palla del Bellini dei musei civici la donazione è avvenuta nella sala del consiglio comunale dove il Politico resterà come installazione permanente un'opera svelata fra gli applausi di una gremita sala municipale il Politico è un acrilico su tavola realizzato fra il 2017 e il 2020 per la mostra Disgregazione e Unità che ora va adornare ad un livello artistico superiore la rinnovata sala del consiglio un onore immenso che abbiamo voluto ricompensare insomma ringraziare attraverso la collocazione di quest'opera all'interno della sala che vede l'assemblea cittadina più importante della nostra città speriamo e ci auguriamo con questa bellissima giornata che aprile sia il mese in cui riusciremo a rientrare nel consiglio comunale di Pesaro infatti il mio impegno nell'ufficio di presidenza dei prossimi giorni è quella di provare a tornare in aula l'aula ora è pronta, è accessibile, è tecnologicamente attrezzata e finalmente avremo anche un'opera importante che può darsi che ci suggerisca anche miti consigli e miti suggerimenti per poter amministrare la nostra città applauditissimo l'intervento in comune di Oscar Piattella uno spassionato inno d'amore all'arte alle sue terre da Pesaro Alcatria e ai tesori culturali di questa terra come la Pala del Bellini è un omaggio alla Pala del Bellini io non vorrei insistere troppo su questa cosa perché è una cosa che non so che bisognerebbe che Pesaro obbligasse i suoi cittadini a fare una visita almeno una volta alla settimana una volta alla settimana uno deve passare lì passare lì davanti, farsi il segno della croce e tornare alla vita normale è una cosa strabiliante è difficile trovare un'opera di un'importanza così come costruita questa macchina meravigliosa e poi tutto ciò che c'è lì di intellettuale questa prospettiva che è un retaggio del rinascimento insomma è una cosa grandiosa bisognerebbe pubblicizzarla di più questa tavola sembra che noi abbiamo un quadro qualsiasi Piattella ha anche enfatizzato la svolta storica dell'elezione a Capitale della Cultura 2024 della città e si è detto pronto a fornire il suo contributo artistico se gli amministratori sono lungimiranti insomma io e altri artisti sempre di Pesaro penso artisti bravi un pa, due, tre al massimo potremmo combinare qualche cosa poi se non succede vedremo può darci che facciano delle cose altrettanto positive e ci aspetteremo Il sindaco di Gabice Mare Domenico Pascuzzi annuncia che dopo 12 anni di ingombrante presenza verrà finalmente rimossa la gru dell'ex Mare Chiaro che dal 2015 vede questo cantiere procedere con non poche difficoltà sono infatti iniziati oggi le operazioni di smontaggio che costituiscono un importante passo avanti per dare più lustro al comune di Gabice Monte Parte sabato un ciclo di conferenze organizzate dall'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro dedicate a studenti e non solo che affronteranno diverse tematiche legate all'agricoltura Si comincia sabato 2 aprile alle ore 10 presso l'Istituto di Villa Caprile con i servizi di supporto alle aziende agricole delle marche come strategia di adattamento ai cambiamenti climatici Altro grande trionfo sportivo del pesarese Jordan Valdinocci atleta di kickboxing che è a Milano si è laureato campione del mondo della disciplina del Fight Code Rules battendo in finale il franco marocchino Morgan Adrar E continuiamo a parlare di sport e di un'altra bella impresa quella della Megabox Vallefoglia che ieri sera ha vinto il match di recupero 3 a 1 in casa dell'Acqua e Sapone Roma ottenendo la salvezza matematica un'impresa straordinaria per la società del presidente Angeli e coach Bonafede che al primo anno di militanza in serie A1 guadagna la permanenza nella massima categoria con una partita d'anticipo sabato a Urbino festa bianco-verde nell'epilogo di campionato che vedrà Vallefoglia di nuovo opposta alla squadra romana E allora davvero complimenti alla Megabox Vallefoglia da parte di tutta la redazione di Rossini TV e adesso continuiamo a parlare di sport perché questa sera come tutti i giovedì c'è una nuova puntata di Insieme a Canestro saremo in diretta alle 21.20 circa seguiteci, ci potete guardare in diretta sul canale 80 oppure anche sulla nostra pagina Facebook Gli ospiti di questa sera sono Matteo Tambone che è guardia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Federico Pieri che è ex giocatore della VL quindi non perdetevi questa puntata E poi vi ricordiamo la nostra rassegna stampa domani mattina con voi ci sarà Daniele Sacchi in diretta alle 7.20 ma attenzione perché poi la replica la potete vedere anche in questi altri orari Mentre arrivando alla giornata di venerdì quindi domani sera alle ore 20 torna il nostro settimanale dedicato al territorio di Vallefoglia e Pian del Bruscolo con voi ci sarà Edoardo Orazzi per raccontarvi le ultime novità di questo territorio Sabato invece alle ore 18 attenzione perché trasmetteremo in diretta sul canale 80 Rossini TV Olympus Roma Italservice Calcio a 5 Pesaro E poi andiamo ancora avanti perché domenica il nostro consueto appuntamento con la trasmissione delle messe in diretta saremo alla parrocchia di San Pietro in Calibano a Villa Fastigi alle 11.15 quindi accendete Rossini TV domenica alle 11.15 per vedere la messa Ho detto davvero tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi seguite i nostri social Instagram, Facebook per essere aggiornati sulla programmazione di Rossini TV ma vi ricordo anche di salvare sul vostro telefono il nostro numero per le segnalazioni 370-366-7210 questo è il numero da utilizzare per denunciare le cose che non vanno Buona serata a tutti